ciao a tutti amici oggi faremo una nuova ricettona come idratare la pizza prendete una padella prendete queste pizze da idratare così si mettono dentro qui un po di origano un po di olio piccante a posto mettiamolo 30 secondi ecco pronta la pizza idrata idrata e voilà e e e e e e e Ok partiamo subito L'unboxing di questa pizza Idratata Magicissima Ciuschi come sai idratare te la pizza Non lo sa idratare nessuno Che film è? Che film è? Che film è? Che film è? Non ho fatto un po' L'acqua Devo aver idratato troppo Prossima volta 20 secondi Non 30 E' già bene? E' freddo fatto da me In verità è green tea Té verde Fatale Allora Allora per il momento di tutto Ciao a tutti Possiamo ancora vedere la visuale Grazie a tutti Grazie.